buongiorno a tutti sto facendo questo video in merito a uno scambio di idee che abbiamo avuto ieri con un iscritto riguardo alle arnie con doppio ingresso che oltre a essere inusuale ovviamente si pensa giustamente che sia difficilmente difendibile come vedete questa arnia ha un ingresso esposto quasi al nord abbiamo un nord nord est questo è l'ingresso esposto ad est come vedete la bussola è lì questo è l'ingresso esposto a nord che come potete vedere preferiscono ok questo è tutto vi saluto